Mister, l'ennesima sfida decisiva, domani arriva un Catania che ha faticato molto in trasferta quest'anno, dopo i buoni segnali di Modena che ulteriore prova si aspetta dai suoi. Domani dobbiamo vincere, abbiamo un risultato solo che è la vittoria, dobbiamo andare in campo per fare la partita e per portare a casa i tre punti, questa è l'unica cosa che conta domani. Conta sia per i tre punti di domani che per tutto il proseguo del campionato. Le sue scelte ancora una volta saranno influenzate dalle assenze e soprattutto in attacco? Sì, domani avrò a disposizione praticamente un attaccante solo che è Cortisi, giocherà lui e poi il resto della squadra ricalcherà grossomodo quella di settimana scorsa. Sfida calda anche dal punto di vista delle tifoserie, tra Varese e Catania sappiamo che non ci sono simpatie, dal punto di vista dei tifosi bianco-rossi che cosa ti aspetti? Mi aspetto che i nostri tifosi ci stiano vicini, lo hanno sempre fatto, ultimamente ci hanno anche contestato, contestato in modo vibrato, però penso che sia anche loro diritto farlo, però domani è una sfida nella quale il loro rapporto sarà fondamentale. Grazie.